Allora, ancora qua con Renato e Francesco, una cosa di cui non abbiamo effettivamente mai parlato, né prima con Renato, né nei porti precedenti, né tantomeno con Francesco, una cosa che trovo interessante, l'attacco in genere allo stato sociale, e soprattutto, diciamo, l'attacco che noi vediamo nei confronti della scuola pubblica, dove si alternano quelle che sono riforme su riforme, ma soprattutto, diciamo, finanziamenti che vengono poi dopo eliminati e levati. Ecco, dato che voi state nel settore comunque dell'istruzione, mi piacerebbe affrontare con voi questo tema, magari Renato, partendo da te. Sì, diciamo che ci si illude che ogni nuovo governo, come se si ripartisse da zero, perché appunto c'è un nuovo governo, e poi si crede che appunto il nuovo governo non potrà fare peggio dei precedenti, perché tutti i governi precedenti hanno sempre più dequalificato la scuola pubblica. Ci si illude anche che non portando avanti in prima persona il conflitto sociale dal basso, non lo portino nemmeno avanti le classi dominanti dall'alto. Al contrario, invece, come abbiamo proprio visto in questi anni, se non c'è lotta dal basso, il coltello, diciamo, affonda sempre nel burro, e quindi chi sta in alto, che ha sempre, diciamo, il coltello dalla parte del manico, non può che affondare sempre di più e quindi non può che portare avanti un processo di sempre maggiore dequalificazione della scuola pubblica a vantaggio delle private. Senza contare inoltre che chi sta in basso non ha chiara la strategia che consente di definire una tattica, mentre invece chi sta in alto ha chiara la strategia e quindi sa bene come sviluppare una tattica conseguente. Così, appunto, chi sta in basso è sempre costretto sulla difensiva, stiamo sempre cercando di resistere, siamo ridotti, appunto, alla resistenza e finiamo così per indetreggiare sempre di più o al massimo quando vinciamo manteniamo le posizioni precedenti che però sono sempre il prodotto di precedenti sconfitte e quindi non riusciamo, diciamo, a rovesciare un processo che ormai va avanti da troppi anni. Diciamo che la completa debolezza nella lotta organizzata per l'egemonia sulla società civile ci costringe, diciamo, ad agitare, questo poi è il problema di fondo, quando portiamo avanti le nostre rivendicazioni delle utopie democratiche o al massimo, appunto, socialiste. Infatti, anche quello che rivendichiamo sempre, cioè la difesa della scuola pubblica, è sostanzialmente un'utopia democratica, perché appunto dovremmo sempre ricordare che sia la scuola che la pedagogia sono sempre degli strumenti dell'egemonia sulla società civile da parte dell'ideologia dominante e il settore pubblico nella società capitalistica è sempre reso funzionale a favorire i profitti dei privati. D'altra parte, però, è vero anche che soltanto la lotta paga e però se non si entra proprio per questo nella logica della rivoluzione permanente non se ne esce, diciamo, da questa situazione. Infine, dobbiamo pure ricordare che anche le riforme le fanno sempre e soltanto i rivoluzionari perché appunto le riforme sono sempre uno strumento della rivoluzione passiva che appunto le classi dominanti fanno quando hanno paura della rivoluzione attiva ma altrimenti non c'è neanche la rivoluzione passiva. E poi appunto proprio per questo dobbiamo sempre ricordare che le conquiste sul piano delle riforme sono sempre pericolose perché appunto vengono fatte per far sì che chi attraverso la lotta migliora la propria condizione tende ad abbandonare il conflitto e quindi appunto sono fatte proprio per impedire un processo di conquista continuo. Senza contare poi che una vittoria troppo ampia anche in un settore per esempio, che ne so, nel settore della scuola se non c'è una rivoluzione generale poi alla lunga lo paghi appunto oppure in Italia al tempo quando nacquero i Cobas si fecero delle conquiste importanti nel settore della scuola e però poi le abbiamo pagate negli anni successivi perché è esploso il debito pubblico che ha portato all'inflazione tant'è che loro che hanno fatto quando c'era quell'attacco così forte da parte del settore della scuola hanno fatto delle concessioni tanto poi ve le facciamo ripagare con gli interessi perché appunto quelle concessioni sono state fatte aumentando il debito pubblico e questo poi ha giustificato appunto le politiche di austerità. Per concludere dobbiamo avere chiaro qual è il filo rosso che unisce tutte queste controriforme che vanno ormai avanti da almeno 40 anni ed è appunto il progetto di rendere la scuola italiana sempre più simile al modello diciamo liberale per essenza che il modello degli Stati Uniti in cui praticamente il settore pubblico è completamente degradato semplicemente a indottrinamento e a parcheggio dei figli dei lavoratori e quindi mentre diciamo tutti gli altri per esempio i cetimedi se vogliono far studiare i figli devono mandarli alle scuole private in questo modo però si indebitano per tutta la vita e quindi non c'è più la possibilità neanche di un passaggio molecolare da una classe sociale a un'altra perché anche se uno fa carriera comunque poi non avrà mai uno standard di vita adeguato alla carriera che ha fatto perché dovrà ripagare per tutta la vita i debiti vai Francescone beh sì io riprendo anche io e Renato siamo insegnanti questo ragionamento sulla quotidianità della vita scolastica diciamo in questo campo si vede proprio chiaramente come l'impostazione del governo che poi si è tradotta in una pratica del fare scuola sia come dire invasa dall'ideologia neoliberista cioè come dire forse paragonabile a un regime totalitario insomma anche se non mi piace questa parola però ecco cioè io da quando sono entrato a scuola ho notato che c'è un tempo sempre più grande che viene sottratto agli apprendimenti delle materie insomma e quindi al processo di costruzione dell'individuo come cittadino del mondo della società come individuo che è in grado di comprendere i funzionamenti della società cioè la matematica la fisica la filosofia la letteratura eccetera no? cioè di essere al passo con la società il grosso del del tempo cioè il grosso una quantità crescente di tempo viene impiegata sulla base di come dire ordinamenti ideologici come per esempio l'invalsi come per esempio l'alternanza scuola lavoro come per esempio l'orientamento all'università cioè ogni forma va in questa direzione e tutte le riforme adesso metterei da parte la questione finanziaria che conosciamo bene no? però tutte le riforme tendono a togliere cioè una quantità sempre maggiore di tempo alla didattica all'attività didattica e questo a volte tenendo conto del fatto che spesso i docenti sentono mentalmente stanno ancora con i programmi nazionali ci sono gli esami eccetera no? genera da parte dei docenti uno stato ansiogeno rispetto ai programmi e quindi la scuola aumenta io non dico tutti i docenti io cerco di uscire da questa logica però a volte anche io sono preso da queste cose insomma per puro senso del dovere e del compito che ho verso i ragazzi e in più questa scuola ansiogena è alimentata da una cosa su cui si riflette poco cioè il numero chiuso alle università cioè qui siamo di fronte a una società castale no? cioè l'idea per cui le sorti di uno studente vengono definite quasi già dalla terza media e che poi come dire tutto l'indirizzo di studi i voti eccetera siano funzionali alla possibilità di intraprendere un percorso universitario che ti può dare la possibilità di lavorare o che non te la dà e questo a parte che genera una come dire subalternità delle materie e una subalternità nella ricerca quindi certe discipline vengono favorite piuttosto che altre e qui si vede l'invalsi quindi non c'è si perde pure l'unitarietà del sapere e poi appunto l'approccio che io almeno vedo condividono molti studenti è di tipo operativistico cioè operativistico cioè io per esempio riflettevo su una cosa l'ansia gli studenti ce l'hanno sempre avuta per i compiti per le interrogazioni per le prove eccetera però la cosa che mi ha sempre colpito e mi sono chiesto ma perché questo livello d'ansia superiore a quando a scuola si davano voti più bassi cioè prima si davano molte più insufficienze non si teneva conto di DSA non c'erano gli insegnanti di sostegno e i ragazzi erano relativamente più tranquilli cioè e anche più capaci di elaborare un discorso autonomo io invece qui vedo questa follia dell'operatività a tutti i costi insomma cioè il discorso della prova e questo mi fa riflettere che poi genera malessere genera un profondo malessere una fatica immensa per ottenere degli obiettivi anche minori quindi se teniamo conto del tempo che viene perso cioè del tempo che viene perso per tutta una serie di attività ideologiche cioè invalsi orientamento scuola lavoro progetti a non finire cioè veramente tu non sai mai se c'è le classi poi a questo ci aggiungiamo un percorso unitario che è selettivo a monte cioè prima che tu entri all'università vieni selezionato questa è una contro riforma bella e buona insomma e secondo me è talmente grave soprattutto per il centro sud dove la scuola è l'ascensore sociale cioè per molte persone insomma perché non c'è un alto livello di sviluppo industriale c'è sempre questa cultura qui che un politico acuto come De Luca che io non stimo però che ha è capace a volte di cogli i problemi delle persone che vivono nel proprio territorio ha messo in luce insomma questa questione di test universitari quindi io direi scusate vado alla conclusione che questo modello di tipo operativistico su questo bisogna veramente insistere genera riduzione degli apprendimenti ansie ansie cioè come dire molto forti quindi un meccanismo d'alienazione per cui la scuola sembra già la fabbrica e risultati bassissimi dal punto di vista degli apprendimenti cioè bassissimi insomma bassi cioè ridottissimi rispetto al potenziale che si avrebbe e questo appunto ci fa capire quanto l'ideologia neoliberista sia nonostante un'opposizione di docenti di molti docenti e su questo bisogna continuare insistere sia penetrata nella quotidianità scolastica ed è difficile contrastarla perché è stata istituzionalizzata quindi l'istituzionalizzazione io non posso dire non faccio quella cosa non so se è chiaro io non posso dire e oltretutto cioè ha ridotto la creatività dei docenti cioè io per esempio vorrei sto in quinto uscire per vedere il museo della liberazione e mi pongo dei problemi perché se la classe se la classe esce sempre io ho un discorso pure di collegialità con i colleghi la faccio usci pure io non ci stiamo più a scuola capite come questa cosa riduce anche la creatività cioè la possibilità da parte che era una cosa importantissima delle lotte degli anni 70 di del docente che vuole sperimentare forme nuove e anche modalità diverse di inclusione e di produzione intellettuale sì vai Renato sì assolutamente ti ho dato la parola proprio grazie scusa mi inserisco su queste cose molto interessanti che diceva Francesco riallacciandomi pure a quello che cercavo di dire prima cioè che come spiega bene Gramsci la scuola appunto non è un organismo neutro ma è sempre uno strumento della classe dominante per esercitare l'egemonia sulla società civile e quindi la scuola serve a formare i lavoratori salariati e quindi gli sfruttati gli oppressi di domani e a reggimentarli e a indottrinarli e quindi come diceva giustamente Francesco ormai si è inserita questa logica che si è affermata con il neoliberismo soprattutto della produttività e questo provoca appunto della produttività dell'individualismo della competizione e questo provoca questa spaventosa ansia di prestazione che noi per esempio quando andavamo a scuola noi noi non la vivevamo a questi livelli mentre adesso appunto vedi proprio quello che spiegavano bene i francofortesi cioè in questo modo te non ti godi la vita io vedo questi ragazzi che sono divorati dall'ansia di prestazione e non si godono niente di questa parte che è una parte che potrebbe essere così bella della vita quella della formazione proprio perché appunto tutto è ridotto all'individualismo alla competizione e alla produttività che porta appunto a essere divorati all'ansia di prestazione poi c'è un altro aspetto fondamentale da tenere sempre presente che al di là dell'ideologia democratica eccetera sulla scuola pubblica la scuola pubblica è sempre una componente del salario indiretto quindi una parte del salario e quindi naturalmente chi ha il potere economico la classe dominante la classe dirigente che è il potere politico cercherà sempre di ridurre al minimo indispensabile questa parte del salario del salario indiretto perché il salario per i lavoratori è sempre minimo e quindi appunto a loro serve semplicemente per formarsi la forza lavoro del domani e tutto il resto non gli interessa e quindi pure la scuola pubblica si riduce essenzialmente a questo e poi naturalmente per tagliare questo settore dello stato sociale quindi del salario indiretto si colpisce sempre di più i lavoratori della scuola aumenta sempre di più lo sfruttamento e qui proprio c'è la logica neoliberista e della forma diciamo scientifica di sfruttamento della forza lavoro che è il toyotismo che sostanzialmente viene ormai applicato anche nel settore della scuola e praticamente qual è la logica quella appunto studiata in Giappone ma ormai si è affermata pienamente anche persino nella scuola pubblica italiana cioè che il salario di base è al di sotto della soglia di riproduzione della forza lavoro quindi appunto sei costretto sempre di più a fare straordinari per arrivare diciamo alla soglia minima per poterti riprodurre soprattutto se hai figli e quindi sei costretto a fare straordinari che però non vengono pagati e riconosciuti come degli straordinari quindi c'hai un aumento dell'orario di lavoro e con un salario più basso perché siccome sei te che sei costretto come nella logica appunto del toyotismo a fare gli straordinari perché altrimenti non arrivi letteralmente alla fine del mese non solo non te li pagano di più come dovrebbero fare con gli straordinari ma te li pagano ancora di meno e quindi fai sempre più ore di lavoro sempre meno pagate e poi anche qui perché anche qui c'è questo strumento che devono irregimentare anche i docenti e vogliono eliminare proprio quello che diceva Francesco tutti gli aspetti creativi eccetera eccetera ti rendono il lavoro sempre più burocratico perché appunto l'unica cosa che sembra interessare a chi ha il governo è che tutto diciamo burocraticamente funzioni per non avere nessun tipo di problema e quindi tutte le questioni che riguardano la didattica non hanno nessuna importanza mentre appunto l'unica cosa che sembra essere centrale è a far funzionare tutta la burocrazia per non avere ricorsi eccetera eccetera perfetto io vi ringrazio veramente illuminante grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti